Ragazzi oggi bomba eh, bomba proprio, ve devo fare una confidenza proprio di quelle che appena appena vi dico sta cosa succede, succede il finimondo, ma non mi fate gridare, venite un po' più vicino un po' più vicino, venite un po' più vicino che a me non mi fate gridare Aiaù, e che cazzo troppo vicino così, eh, troppo